Il lancio lungo verso Nocciolini, mette in difficoltà forte? No, c'è Buonasia. Marchetti, attenzione il lancio di Marchetti, la prende un giocatore, attenzione per poco non subiamo il secondo gol sul disimpegno di Marchetti. Il numero 10, Lo Sicco, non ci ha pensato su due volte a sparare un tiro dalla limita dell'aria. E la palla ha sfiorato il palo sinistro, Vigorla Mese che rischia grosso in questo frangente. Sui disimpegni, prima Erbini ha avuto la palla sulla fascia, bisognava solamente appoggiare un giocatore, invece è stato aggredito dai giocatori avversari. Vediamo la palla a De Luca, abbiamo subito davvero tanto adesso su un disimpegno di Marchetti. Giuffrida, palla lunga di Giuffrida, quello lui distratto da questo pareggio della squadra ospite.